Mussolini! Chi? Io ho una staller! Cicciolina! Un'altra volta! Me la passi! Ah, salve Cicciolina! Sono Benito Mussolini, ti ho fatto chiamare io. Tutto bene? Bene, bene, me ne compiaccio. Sì, ho molto riflettuto, sai, sulla nostra idea, sì, quella di marciare a Roma. Io con una banana e tu con una patata. Onde stimolare il maschio italiano e le donne italiane e farle tornare al loro glorioso destino di fertilità. Miss Aspen vuole scaricarci un fracco di risorse, esattamente. Gli sbarchi sono quadruplicati. Altri mezzo milione di nuove risorse entreranno in Italia. Ma insomma, diamoci da fare! È chiaro. E quindi non soltanto una banana, ma penso a un nuovo simbolo per il nostro partito, il partito della rinascita. Sto parlando, cara Cicciolina, di un cetriolo. Sì, il cetriolo e la patata, io e te a Roma marcieremo uniti per portare il paese verso una nuova fertilità. Ciao Cicciolina, ciao, stammi bene!